la juventus piano piano ci sta lasciando senza le mutande non so a voi ragazzi ma secondo me si sta prendendo gioco di noi ci sta palleggiando a suo piacimento gioca bene e vince gioca male e vince non abbiamo scampo buonasera a tutti ragazzi come avete ben notato dalla intro la juve ha vinto per l'ennesima volta beh che dire che tutto ciò da inizio anno ve l'avevo detto vi dicevo sin dall'inizio quest'anno puntate tranquillamente sulla juventus e infatti proprio quest'anno che lo dico stanno vincendo veramente tutto un pareggio roba assurda e poi tutto quante le partite sono state vinte oggi ho visto il secondo tempo devo dire che la roma mi è comunque piaciuta perché ha cercato sempre di mettere la juve sotto attacco e per questo già bisogna dargli del merito è così come si deve affrontare la juve ma la juve è nettamente più forte quest'anno a parte che vi farò ancora un video per quanto riguardano i sorteggi della champions e quest'anno la juve è una serie pretendente alla vittoria della champions nonostante l'atletico già posso anticipare questo sia di sicuro di gran lunga l'avversario più ostico che poteva prendere agli ottavi io credo che comunque la juve non si debba fare assolutamente sotto perché la juve può batterla saranno due partite sicuramente molto toste diciamo così da pochi gol presumibilmente ma la juve ha la qualità per farcela ha segnato mangiucic come al solito diciamo quest'anno ha fatto pochi gol ma tutte e quasi quasi tutte contro le big un tutto fare lo si è visto dappertutto come il solito fare mangiucic potrà essere anche molto importante in vista delle partite contro l'atletico e che dire ragazzi la juve non ha concorrenza non c'è nulla da fare quest'anno vincerà a mani basse lo scudetto e sarà una serie pretendente per la champions però per quanto riguarda ciò ci sarà il video prossimamente dove dirò la mia sui sorteggi per questo video è tutto non c'è nulla da fare la juve ci balleggia come vuole bravo juventus non ti piace juventus 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 juventus